Siracusa 5 SUV rubati restituite ai legittimi proprietari. Scoperto dagli operatori della Polizia Stadale di Siracusa un giro di riciclaggio di autovetture rubate successivamente reimmatricolate mediante l'uso di falsa documentazione apparentemente di provenienza estera. I veicoli sono stati rinterciati e individuati attraverso la decodifica dei rispettivi codici seriali e pertanto sono stati posti in sequestro per la successiva restituzione agli aventi diritto. Consolidato il modus operandi attuato dai malviventi che subito dopo il furto alterano i codici identificativi delle autovetture facendo ricorso a sofisticate tecniche finalizzate a formare dei veri e propri veicoli cloni di altri regolarmente circolanti negli Stati dell'Unione Europea. In seconda battuta con l'utilizzo di falsa documentazione estera i veicoli sono reintrodotti nel mercato italiano mediante la nazionalizzazione. Una volta reimmessa nel mercato nazionale a pagarne le conseguenze sono stati purtroppo gli ignari acquirenti i quali si sono visti costretti a riconsegnare il veicolo acquistato di illecita provenienza ai legittimi proprietari. Grazie. 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 Grazie.